Ciao a tutti sono Seracais e bentornati sul mio canale. Oggi vi parlerò dei nuovi contenuti che ci saranno in Red Detention 2. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, entrate nel gruppo Red Detention Italia 2 su Telegram trovate in descrizione, saluto Love Today che mi aiuta a creare questo gruppo e seguirlo, trovate il suo canale in descrizione e ripeto il canale Telegram di Red Detention 2 da Telegram per entrarci, c'è il link e i miei social in descrizione. Allora, attivate la campanella, iscrivetevi al canale, non siete ancora iscritti, iniziamo subito. Ah, prima di dimenticarmi volevo dire che il gruppo Red Detention, siamo una cinquantina, è stato creato oltre per le news di Red Detention che escono, usciranno, che pubblico, per scrivere per chi entra, per chiedere aiuto, per giocare se avete bisogno di aiuto nel fare le missioni, per giocare online, per aggregarsi, eccetera eccetera. Quindi un gruppo pubblico potete scrivermi tranquillamente e man mano entra gente e c'è parecchia gente attiva. Allora, iniziamo quel video. Come avete notato dal titolo ci sono novità sulle armi. Allora, nel Red Detention 2 ci saranno oltre cinquanta tipi differenti di armi e questo è già una buona cosa. Anche in GTA 5 c'erano parecchie armi, ovviamente cinquanta armi differenti. Per chi non lo sapesse nel primo Red Detention 1, uscito ormai credo otto anni fa, erano infatti presenti ben ventotto armi diverse. Poi erano andate a 36, includendo i DLC. Probabilmente, includendo anche le espansioni che usciranno in Red Detention 2, il gioco potrebbe contenere secondo me oltre 60 tipi di armi o giù di lì. O magari, chi lo sa, aumentare anche notevolmente. Non lo so, magari vengono inventate robe assurde, aumentate armi inutili, però che sono sempre armi, chi lo sa. Vi ricordo che Red Detention 2 peserà ben 105 GB, quindi liberate le PlayStation o compratevi un harddisco esterno. Allora, comunque, per chi non lo sapesse, Rockstar ha annunciato quali saranno alcuni dei contenuti esclusivi di lancio della versione PS4 di Red Detention 2. Si intende contenuti esclusivi perché dopo un mese saranno rilasciati anche per la versione Xbox One. Iniziamo con l'abito in fuori legge dei Grizzly. Disponibile sino al primo giorno per la storia di Red Detention 2 e al lancio di Red Detention Online. Sarà pratico e allo stesso tempo robusto. L'abito in fuori legge dei Grizzly è perfetto per esplorare le foreste del Ambarino. Il completo è composto da un lungo sopravito con riflessimento in lana e finiture di pelle personalizzate cucite a mano. Un gile di pelle con fodera ricamata, colletto a punta con fazzoletto da collo nero e fibri decorate con punti degli stivali coordinate. L'abito in fuori legge dei Grizzly omange al boss degli stati del nord a cui si ispira. Poi ci sarà il cavallo arabo Sauro Rosso disponibile al lancio di Red Detention Online, famoso per la sua velocità e manovrabilità. Potremmo fare anche le derapate. Il cavallo arabo rosso sarà una spanna sopra gli altri cavalli selvatici che si possono trovare in giro circolando nella mappa del gioco. Le sue prestazioni sono superiori a quelli di altri cavalli di prima classe disponibili. Quindi avremo un cavallo più veloce, come un'auto più veloce. La sella del Ranch Scooter in alligatore disponibile al lancio di Red Detention Online sempre. Questa sella fornisce alcuni vantaggi tra cui il potenziamento dei nuclei, della salute e della resistenza che aumentano la velocità e l'accelerazione del cavallo. Ovviamente se il cavallo sta meglio avrà prestazioni maggiori e superiori. Questa sella è una versione migliorata della sella base che viene fornita ai giocatori all'inizio di Red Detention Online. Avremo questo piccolo vantaggio. E poi abbiamo questo revolver a doppiazione azzardo, sempre disponibile in Red Detention Online. Questo revolver a doppiazione presenta un corpo in acciaio lucido con incisioni uniche ispirate al periodo storico e magnificamente dettagliate. Questo rapido e letale revolver riporta incise carte da gioco e teschi sull'impugnatura. Come in GTA c'erano queste decorazioni sulle armi, se vi ricordate nell'aggiornamento GGTA Online. Quest'arma è ottima per i combattimenti a cavallo e ha una cadenza di fuoco rapida rispetto agli altri revolver. Vi ricordo che Red Detention 2 uscirà il 26 di ottobre, per chi non se lo ricordasse per PS4 Xbox One. Allora, il video termina qui. Grazie per aver visto questo video. Vi ricordo di lasciare un bel like, condividete il video per farmi crescere e aumentare queste visualizzazioni che daranno tante notizie un po' a tutti. Attivate la campanella, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, trovate il link di Red Detention 2 in descrizione e anche lo state vedendo adesso. Entrate, iscrivete, chiedete aiuto, attivate la campanella e ci vediamo un prossimo video da Serra Kaiser. Ciao a tutti! Grazie a tutti!